Federico Serraiocco, un ottimo portiere per 90 minuti e poi nei minuti di recupero diventi Batman praticamente. No, vabbè, abbiamo avuto una partita difficile sotto tutti i punti di vista, ci hanno credito, io ho cercato di fare il mio come al solito, poi vabbè, nei minuti di recupero sono riuscito a stoppare a tuppertura l'attaccante, è andata bene, quindi siamo felici per il punto, per come è arrivato, però noi sapevamo che dovevamo vincere e speriamo di farlo già domenica prossima. La parata su quel colpo di testa di Vicentin è stata pure molto difficile. Sì, quella secondo me è stata anche più difficile dell'ultima, soprattutto per un portiere alto come me, quella reattività, certe volte mi sorprendo pure io, invece nell'ultima alla fine sono stato bravo a chiudergli lo specchio e poi chiaramente lui non poteva fare altro che tirarmi addosso. Senti, cosa avete partito domenica? Ma non lo so, sicuramente noi avevamo preparato una partita diversa per attaccarli come abbiamo sempre fatto, come abbiamo fatto in Coppa Italia, in tutte le partite che abbiamo giocato. Non ci siamo riusciti, magari un po' il campo stretto ci ha penalizzato, il caldo, poi sai, comunque passi da buone partite contro Brescia, Salenitana, giochi con la Versa, ma inconsciamente ci può stare che sarà sottovalido un po', tant'è che poi secondo me l'abbiamo fatto molto meglio dopo l'espulsione che prima perché ci siamo combattati nelle difficoltà. Servirà da lezione, secondo me già la domenica non faremo lo stesso errore. Anche perché arriva una squadra che anche se è allestita per buona parte nell'ultima parte del mercato, però è una squadra di blasone, una di quelle che ha il blasone maggiore nel girone. Sì, sì, sicuramente faccio fatica a pensare che loro la possano retrocedere, sinceramente, quindi è una di quelle che candidate ad andare in C1 che il prossimo anno, hanno una buona piazza, sicuramente avranno molti tifosi al seguito, noi comunque siamo il terreno, ripeto, all'inizio dell'anno, quindi in casa nostra dobbiamo vincere noi.